Una volta nel paleolitico, unicorno spensierato, girava per la giungla dove all'epoca era nato. Andando troppo in giro, si perse velocemente, dalla bocca e ma non sospiro, Carlotta deficiente. Carlotta, dove vai? Non vedi che il mondo si riserva dei guai, se tu andare in giro non finisce mai, Carlotta, ti trasformerai. Vagando, sempre attorno, contro un gorilla brutto, spiegò la strada del ritorno, e lei lo ringraziò con un rutto. Carlotta si rimise in viaggio, cantando una canzone, questo è solo un assaggio, l'inizio della trasformazione. Carlotta, dove vai? Non vedi che il mondo si riserva dei guai, se tu andare in giro non finisce mai. Carlotta, ti trasformerai. L'unicorno si ripersi, guardate un po' che strano, dopo tutte quelle corse, li bruciava pure l'ano. Ad un certo punto, si imbatte in un t-rex, sapeva un po' da unto, e partì subito il sex. Carlotta, dove vai? Non vedi che il mondo si riserva dei guai, se tu andare in giro non finisce mai. Carlotta, ti trasformerai. Subito dopo aver copulato, insieme al suo nuovo amico, ritrovarono il selciato, e ringraziò di cuore Enrico, ah, mi son dimenticato. Questo era il suo nome, dell'amico che aveva scopato, perché ha tratto dalle sue chiome. Carlotta, dove vai? Non vedi che il mondo si riserva dei guai, se tu andare in giro non finisce mai. Carlotta, ti trasformerai. Carlotta cominciò a sentirsi strano, qualcosa stava succedendo, forse è colpa della marijuana, oppure stava decedendo. Si stava trasformando finalmente, in un orrendo vampiro, fatto per torturare la gente, soprattutto quelli di nome Ciro. Ora, non c'è molto da raccontare. Carlotta uccise tutti i dinosauri, perché era quello che un vampiro doveva fare. Questa è la vera storia della loro estinzione. Alla se stoppe. Na 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Grazie a tutti.